Capitolo ventunesimo Due giorni dopo, l'Esena, che si trovava all'ancora oltre i pericolosi confini di KCX-1288, fu raggiunta da una frotta imperiale proveniente da Gudrun. Eravamo riusciti a fuggire dal pianeta dell'altopiano in meno di due ore, e come Amos aveva previsto, quel luogo sembrava disintegrarsi attorno a noi. Era come se il mare, la spiaggia e le alture non fossero altro che un'ingegnosa creazione, uno spazio costruito dai saruti per l'incontro con i loro ospiti umani. Quando riuscimmo a raggiungere l'Esena con la mia nave, la pallida luminescenza aveva cominciato a scomparire e la pressione atmosferica era considerevolmente diminuita. Eravamo scossi dalla turbulenza, e la gravità naturale aveva ripreso il sopravvento, mentre l'impossibile cavità aveva cominciato a deteriorarsi. Dopo che Maxilla ci ebbe fatto attraversare il più velocemente possibile lo scuro corridoio di archi, lo spazio interno, dove avevamo incontrato gli alieni, si trasformò in una buia tempesta di vapori, di ammoniaca e di arsenico. Inoltre, gli orologi avevano ripreso a funzionare. Ci lasciammo alle spalle quel pianeta impervio, sfidando le tempeste gravitazionali lungo la rotta che conduceva all'esterno del sistema. 40 minuti dopo aver abbandonato quel luogo, i sensori di poppa non riuscivano più a ridividuare la cavità, che era collassata, o che, molto probabilmente, non era mai esistita. Come i saluti fossero arrivati e come se ne fossero andati restava un mistero, ed Emos non ci fu di alcun aiuto a risolverlo. Non avevamo scorto traccia di altri vascelli né di altre uscite dalla superficie del pianeta. Credi che vivano là dentro? Domandai ad Emos, mentre ci trovavamo sulla piattaforma d'osservazione, guardando alla stella che si allontanava attraverso gli oblò oscurati della nave. Credo di no, la loro tecnologia va oltre le mie conoscenze, eppure sono convinto che siano giunti da un altro pianeta in quel luogo appositamente creato per l'incontro, passando attraverso le arcate. Quel concetto superava la mia immaginazione. Emos stava parlando di teletrasporto interstellare. Fuori dal sistema, trovammo pochissime tracce della flotta eretica. Ma quando Maxill riuscì a dedurre esaminando le tracce del warp, le tre navi che sicuramente avevano a bordo Locke e Dazzo avevano raggiunto il grosso della flotta e si erano inoltrate nell'immaterium. Altri indicatori del warp ci informarono che si stavano avvicinando navi amiche ad appena due giorni di distanza, perciò calammo l'ancora gravitazionale e nell'attesa. Ci occupammo dei feriti. Trenta settimane prima, quando eravamo partiti dal Damask, avevo inviato a Gudrun una richiesta d'aiuto astropatica. In quel messaggio avevo descritto per sommi capi la nostra situazione, esprimendo la speranza che il comandante supremo mandasse una spedizione militare in mio aiuto. Ma non lo feci nel modo autoritario che avrebbe sicuramente usato Commodus Walk, perché ero convinto che l'importanza e l'urgenza della mia comunicazione parlassero da sé. Undici navi in formazione da battaglia uscirono dall'Empirio davanti a noi. C'erano sei fregate imperiali, con diversi caccia di scorta. Dentro questo gruppo di vascelli venivano le corazzate Vulpecula e la San Shaitus, ciascuna tre volte più grande e maestoso delle fregate. Seguiva poi un inquietante trio di incrossatori neri dell'Inquisizione. Non era una spedizione militare, ma una missione dell'Inquisizione. Scambiamo i messaggi di identificazione e fumo scortati tra le tre navi da una guardia d'onore di cannoniere. I nostri feriti, compreso Fishing, ancora in stato d'incoscienza, e il prigioniero Malahit, furono trasportati da alcune navette a bordo della San Shaitus, dove furono affidati alle unità mediche. Un'ora dopo, su richiesta dell'Armiragio Spatian, anch'io veni trasferito sulla corazzata per fare rapporto. Indossavo un vestito nero, il sopravito di pelle con il mio distintivo appuntato al colletto, e avevo il braccio sinistro fermato da una fasciatura chirurgica. Emos, vestito di un sobrio abito verde, mi accompagnava. Sotto l'ampia volta della rimessa d'attracco della San Shaitus, ci attendeva il procuratore Olm Madartin, e un drappello di guardie scelte. Il procuratore vestiva l'impressionante uniforme bianca che gli avevo già visto indossare durante il nostro primo incontro, mentre l'armatura blu dei soldati era arricchita da trecce dorate e decorazioni cerimoniali. Madartin mi salutò militarmente, e tutti insieme ci recammo gli ascensori che ci condussero ai ponti di comando della nave. Come va la rivolta? domandai. Abbastanza bene, inquisitore. Sappiamo che il comandante supremo ne ha dichiarato definitivamente chiuso lo scisme elicano, anche se qualche scontro è ancora in atto su Trachan. Perdite? Notevoli, specialmente tra i civili e le risorse dei pianeti coinvolti, ma è anche andata distrutta qualche unità della flotta e della guardia. Il tradimento di Lord Glow è costato caro all'Imperium. Il tradimento a lui è costato la vita. Il suo corpo giace su un pianeta senza nome nel sistema al di là di questo. Il vostro maestro ne sarà soddisfatto, commentò con un cenno. Il mio maestro? Il primo inquisitore, Flevas Alessandro Rorken, sedeva su un trono di marmo, in fondo a una sala per udienze a forma di cappella, due ponti sotto la plancia della San Shaitus. Prima di allora lo avevo già incontrato un paio di volte, e dopo quelle esperienze non mi ero sentito molto tranquillo. Indossava abiti semplici, color rosso e nero, e guanti. A parte un anello con il simbolo del suo ufficio, non portava alcuna decorazione, e l'austera semplicità del suo modo di fare sembrava accentuarne l'autorità. Il nobile capo era rasato, a eccezione di un pizzetto a due punte, e i suoi occhi profondi, calmi e saggi, brillavano d'intelligenza. Era circondato dal suo entourage, dieci inquisitori novizi con rango di interrogatore al inferiore, da alcuni standardi, lanciafiamme sacri, bauli di pergamene e di pezze, luccicanti strumenti di tortura su cuscini di seta, e libri di inni aperti. Nei pressi c'erano quattro guardi del corpo, con manti rossi e spadoni a due mani, tenuti innanzi al volto con la punta rivolta in alto. L'armatura era ornata, e sulla visiera integrale erano dipinti i volti di quattro santi apostolici, Olios, Gerido, Manetzer e Kadmon. Le maschere, molto naif, erano prive di qualsiasi espressione, come se fossero state direttamente riprodotte da una rappresentazione, o da qualche antico manoscritto sapienziale. Un gruppo di eruditi vestiti di nero attendevano i pressi, e alcuni servitori cherubini dalla forma di bimbi e grassocci di circa tre anni, con riccioli d'oro e il volto spietato di gargoyle, svolazzavano attorno, ridendo e scherzando, sorretti dalle loro ali antiga gravitazionali. «Avvicinati, eisenhorn!» disse Lord Rorken, con la sua voce morbida, ma che parve comunque riempire la sala. «Avvicinatevi tutti!» A quelle parole, altre figure emersero dalle anticamere lungo i lati della sala e si sedettero. Uno era l'ammiraglio Spatian, un vecchio gigante osciuto in uniforme bianca, attorniato da molti suoi ufficiali superiori. Gli altri erano inquisitori. Titus Endor, con il mantello marrone e senza scorta, a parte una vecchia erudita, che mi rivolse un ceno di incoraggiamento. Commodus Vogue, raggrinzito e tremante, venne aiutato a sedersi da un uomo alto, vestito di nero, con sporadici ciuffi su una testa quasi calva. Il cranio, il volto e il collo di costui erano pieni di cicatrici provocate da ferite e interventi chirurgici. Si trattava di Heldane. Il suo incontro con il carnadonte non aveva contribuito a migliorarne l'aspetto. Anche Vogue mi fece un ceno di assenso, ma non vi percepì alcuna amicizia. Accanto a lui, sedeva, tutto raggomitolato, l'inquisitore Shongard. La nera maschera metallica che gli copriva completamente il viso lasciava visibili solo gli occhi truccati. Era affiancato da due donne magre e snelle che dall'aspetto dovevano appartenere a qualche culto della morte. La loro pelle, praticamente nuda, faceva sfoggio di grandi tatuaggi. Indossavano cappucci spinati e alla cintola portavano delle spade. Davanti a Shongard sedeva Conrad Molitor, un membro ultra-radicale degli Ordos di cui avevo ben poco rispetto e considerazione. Si trattava di un uomo dal corpo atletico, vestito dalla testa ai piedi con un'armatura attillata a quadretti gialli e neri con un pettorale d'argento lucido. I corti capelli scuri mostravano una chierica che gli conferiva l'aspetto di un monaco della prima crociata. Alle sue spalle c'erano tre accoliti incappucciati vestiti di giallo. Uno portava la spada a energia cesellata di Molitor, un altro un calice d'argento con patena e il terzo un reliquiario e un incensiere fumante. Lo sguardo di Molitor non mi abbandonò per un istante. L'ultimo a sedersi alla destra di North Rorken fu un gigante che indossava una nera armatura potenziata. Era uno Space Marine del capitolo della Guardia della Morte, l'unità dedicata agli Ordoxinos. Si trattava di uno dei capitoli del gabinetto di comando della Marina, fondato esclusivamente per l'Inquisizione, oscuro e segreto persino per gli standard dei benedetti Adeptus Astartes. Quando mi avvicinai, il guerriero si tolce nel metto e l'appoggiò sulle ginocchia corazzate, svelando un pallido volto dalla mandibola piatta, incorniciato da folti capelli grigi. Aveva la bocca sottile e piegata in un'espressione di disapprovazione. Alcuni servitori portarono una sedia anche per me e io mi accomodai davanti al primo inquisitore. Amos, in piedi accanto a me, per una volta era silenzioso. Abbiamo letto il tuo rapporto preliminare, fratello Aisenhorn. Devo ammettere che sembra quasi una favola, ma che in realtà descrive un grande evento, disse Lord Rorken, assaporando quell'ultima parola. Hai inseguito la flotta eretica di Glow fino a quel pianeta dimenticato dall'imperatore. Certo che avessero deciso di effettuare uno scambio con una razza Xenos. Hai affermato che tale scambio riguardava un oggetto la cui natura avrebbe minacciato la sicurezza e la santità della nostra società. Esattamente, Lord Fratello. Sappiamo che sei sempre stato onesto e affidabile. Perciò non dubitiamo delle tue parole. Non siamo anche noi una forza inusitata? Fece un gesto per indicare i presenti e si levarono alcune risa, però più forzate, specialmente da parte di Vogue e Molitor. E di che oggetto si trattava? Gli alieni possedevano una singola copia di un'opera profana e proibita, conosciuta come Necroteuco. La reazione fu immediata. Voci sorprese, allarmate o incredule si levarono attorno a me. Udi, Vogue, Molitor e Schongard che facevano commenti sprezzanti. I servi, gli accoliti e i novizi attorno a noi sussurravano e borbottavano fittamente. I cherubini si agitarono, andando a nascondersi dietro il trono di Lord Rorken. Lui mi guardò dubbioso e vidi che anche il cupo Space Marine fissava stupefatto l'inquisitore. Lord Rorken alzò una mano e il brugio cessò. È certo, fratello Aysenorn? Sì, mio signore. L'ho visto con i miei occhi e ne ho avvertito la malvagità. Era Necroteuco. Da quello che ho appreso la razza Xenos chiamata Saruti ne scoprì una copia migliaia di anni fa e solo di recente è riuscita a stabilire rapporti con la cospirazione dei glue per effettuare uno scambio con manufatti appartenenti alla propria cultura. Ridicolo! Esplose Commodus Vuk. Il Necroteuco è un mito! Uno dei più assurdi! Questi ignobili alieni ne avranno creato appositamente una copia per farsi beffe degli eretici! L'ho visto con i miei occhi e ne ho avvertito la malvagità ripetì fissando Vuk. Era il Necroteuco. L'ammiraglio Spatian guardò Lord Rorken. «Questo oggetto, sì, il libro, ha così tanto valore da spingere questi eretici a creare uno scisma nell'intero sottosettore per coprire il loro tentativo di recupero? Il suo valore è calcolabile!» intervenne Monitor dalla parte opposta della sala. «Oltre ogni dire! Se le leggende che lo riguardano sono vere anche solo in parte, il libro contiene un sapere che supera abbondantemente ogni nostra comprensione. Non ci avrebbero pensato due volte a mettere interi pianeti a ferro e fuoco oppure a sacrificare tutti i loro averi per acquisire il potere in esso contenuto!» «È sempre stato chiaro che fosse una partita della massima importanza!» interloquì Endor con voce calma. «Anche se le notizie che ci porta fratello Gregor sono incredibili, personalmente non ne sarei tanto stupito. Solo una reliquia come il Necroteuco giustificherebbe un tale spargimento di sangue!» «Ma stiamo parlando del Necroteuco!» si bilò a Shongard. «Ci sono riusciti, inquisitore Eisenhorn!» chiese improvvisamente allo Space Marine fissandomi negli occhi. «No, fratello Capitano, non ci sono riusciti. Avevano ormai raggiunto il loro obiettivo quando la mia forza è stata capace di deteriorare i loro accordi con i Saruti. Gli alieni sono stati uccisi così come la maggior parte dell'avanguardia eretica, compreso Lord Glow e un figlio blasfemo dell'imperatore che si è riunito all'impresa. «Ho letto di questo Mandragor nel tuo rapporto!» confermò Almarin. «La sua presenza fu fondamentale quando dovetti decidere se la mia unità dovesse partecipare a questa spedizione. I figli dell'imperatore che terravaledica alle loro anime volevano chiaramente il libro per loro. Ecco perché hanno inviato Mandragor ad assistere Glow nel recupero. Il fatto che costoro abbiano preso seriamente tale faccenda non fa altro che confermare la mia storia. Il nobile Marim a noi.» «Mandragor, è morto? Hai detto? L'ho ucciso io stesso.» Il guerriero della Guardia della Morte mi guardò perplesso. «Qualche eretico è sfuggito alla tua purga?» domandò Shongard. «Due dei principali cospiratori, il mercante Gorgonelok, che credo sia stato la pedina fondamentale per aprire il dialogo con i Saruti, e i Glow, e un'ecclesiarca di nome Dazzo, che ritengo fosse la forza spirituale dietro l'intera faccenda. Sono fuggiti al combattimento e si sono riuniti al resto della flotta in attesa, per poi abbandonare quel sistema.» «Destinazione?» chiese Spatian. «Stiamo ancora verificando, ammiraglio.» «Da quante navi era composta la flotta? Quel bastardo traditore di Estrum se ne portate via quindici.» «Nel sistema ha perso almeno due fregate. Le segue anche una nave mercantile non standard che dovrebbe appartenere all'Ok. «Credi che stiano fuggendo o che abbiano altri piani?» domandò Lord Rorken. «Mio signore, devo fare ulteriori indagini per poterle rispondere.» Spatian si alza in piedi e fissò il primo inquisitore. «Anche se stanno fuggendo non possiamo permettere che la facciano Franca. Devono essere presi e distrutti. Che del permesso di approntare la flotta è di iniziare l'inseguimento.» «Permesso accordato, ammiraglio.» «Nessuno ha ancora posto la domanda più importante al nostro eroico fratello Esenhorn.» interroquì Molitor sottolineando la parola eroico in modo poco lusigniero. «Che è accaduto al necroteuco?» «Ho agito come avrebbe fatto ciascuno di noi il fratello Molitor.» risposi guardandolo in faccia. «L'ho bruciato.» «Ci fu un boato.» Molitor balzò in piedi incolpandomi di ogni sorta di eresia e sciongaro dal tono della voce appoggiandone le accuse mentre Endor e Voke li contrastavano. I servi ululavano e litigavano. Solo io e il capitano della guardia della morte ce ne restammo seduti in silenzio. Improvvisamente intervenne Lord Rorken. «Basta!» ordinò. Poi i suoi occhi si posarono su Molitor. «Esponi le tue obiezioni in modo chiaro e conciso, fratello.» L'inquisitore annuì leccandosi le labbra mentre con i suoi occhi gialli si guardava intorno irato. «Eisenhorn deve subire la nostra più ferma censura per un simile atto vandalico. Sicuramente il necroteco è un'opera malvagia e proibita, ma noi siamo l'inquisizione, signori miei.» «Con che diritto ha deciso di distruggerlo? Un simile oggetto andava sequestrato e portato al cospetto dei nostri più abili eruditi perché potessero studiarlo.» «La sua distruzione ci priva di conoscenze, saggezza e segreti inimmaginabili. Il contenuto del necroteco avrebbe potuto spalancarci una finestra di incalcolabile valore sull'arci nemico dell'umanità. Non immaginate quanta forza ci avrebbe conferito nella nostra incessante lotta? Esenorn ha tradito il cuore stesso della sacra inquisizione.» «Fratello Shongard? Mio signore, sono d'accordo. Esenorn ha compiuto un'azione sconsiderata. Si è trattato con prudenza, il necroteuco ci avrebbe fornito enormi vantaggi e i suoi arcani segreti sarebbero stati usati come armi contro il nemico. Sono disposto a applaudire gli sforzi per dare la caccia a Gloe e i suoi complici ma la distruzione di un bene tanto prezioso desta il mio opproprio.» «Fratello Vogue? «Cosa?» esordì Lord Rorken ma io lo interruppi. «Signori, siamo in un tribunale. Devo considerarmi sotto processo?» «Niente affatto, fratello, ma l'enormità della tua azione deve essere soppesata. fratello Vogue?» «Eisenhorn ha ragione», disse il vecchio inquisitore. «Il necroteuco era un abominio e sarebbe stata un'eresia non distruggerlo.» «Fratello Endor?» Titus non salzò ma si girò e fissò Conrad Molitor sul lato opposto della sala. «Gregor Eisenhorn ha il mio più pieno appoggio dei tuoi lamenti, Molitor mi sto domandando che uomo ho ascoltato? Sicuramente un radicale?» «Un inquisitore?» «Ne dubito.» Molitor si alzò furibondo. «Canaglia! Maledetta canaglia! Come osi?» «Certo che oso!» rispose Endor incrociando le braccia in un gesto di sfida. «E tu Schongard non sei meglio di lui vergognatevi!» «Che segreti speravate di apprendere a parte come inquinare le nostre mirti e far loro perdere la sanità?» «Il necroteuico è stato proibito sin dai tempi della nostra fondazione e quindi non abbiamo bisogno di conoscere il contenuto per accettare tale divieto.» «Doveva essere distrutto e basta.» «Avete per caso ho bisogno di incontrare il vaiolo di Ulren per sapere che è mortale?» A quella battuta Lord Rorken sorrise e guardò il marine. «Fratello capitano Seinwolf?» L'uomo accennò una scrollata di spalle. «Io comando squadre esperte nell'eliminazione di alieni mutanti ed eretici mio signore. L'etica e la filosofia le lascio volentieri agli eruditi. Ma per quel che ne vale la mia opinione beh posso dire che anch'io avrei distrutto senza un attimo di esitazione quella terribile manifestazione demoniaca. Seguì un lungo silenzio e in quel momento fui felice che il mio volto fosse stato reso incapace di sorridere. Poi Lord Rorken tornò a sedersi. Le obiezioni dei miei fratelli sono state annotate. Data la gravità della situazione anch'io sono d'accordo con Esnorn e con la scelta di lui compiuta. Grazie mio signore. Adesso ritiriamoci e cerchiamo di valutare tutta la faccenda. Entro quattro ore voglio delle proposte su come condurre la nostra missione. E adesso domandò Titus Endor mentre eravamo seduti nei suoi alloggi a bordo della San Shaitus e un servitore femmina ci portava bicchieri di ottimo Amasek invecchiato in botti di Null. Dobbiamo distruggere i superstiti dissi. Dazio e il resto della flotta eretica forse sono riusciti a scampare al loro destino e ora sono costretti a fuggire. Probabilmente continueranno a scappare per molto tempo. Hanno a disposizione le risorse di una piccola flotta e sono sicuro che le useranno. Quindi raccomando di dare loro la caccia e di porre termine una volta per tutte a questa incresciosa faccenda. Emos entrò nella stanza e fatto un rispettoso cenno di saluto a Endor di Porson di Ped. Gli astronavigatori dell'ammiraglio hanno determinato la rotta della flotta eretica e le loro conclusioni coincidono con quelle che Maxilla mi ha appena fornito. Titus hai per caso una mappa? Domandai esaminando i dati. Annui ed alla superficie in vetro azionò i comandi di un'unità pesante che si illuminò quindi inserì le informazioni contenute nel B-Ped. Ecco lo sospettavo non stanno facendo ritorno all'interno dello spazio imperiale però non stanno neppure uscendo dalla zona proibita delle stelle di frontiera la loro rotta li sta portando su 56 Izar distante 10 settimane in territorio Saruti esatto proprio nel cuore del loro territorio il primo inquisitore Rorken assentì con aria grave come dici tu fratello forse i loro affari non sono conclusi non credo che possano contare sull'alleanza dei Saruti né sperare di ricevere asilo da loro l'accordo tra le forze di Glow e quella razza era direi piuttosto fragile inoltre qualunque fosse l'intesa esistente essa è stata mandata in fuma dallo scontro avvenuto Dazzo deve avere qualche altro motivo per recarsi là Lord Rorken passeggiava nella sua sala di rappresentanza meditando e giocarellando con l'anello che portava il dito i suoi cherubini se ne stavano appollaiati sugli schienali delle poltrone e dei divani della stanza muovendo nervosamente le teste del gargoio da una parte all'altra per poi fissarmi mentre attendevo una risposta eisenhorn la mia immaginazione corre piuttosto veloce disse alla fine ho intenzione di interrogare direttamente l'archeoxenologo Malahid sono sicuro che possa fornirci informazioni interessanti così come sono convinto che non sia affatto dotato della resistenza dimostrata dal suo aristocratico padrone Urizel Rorken smise di passeggiare batte forte le mani guantate spaventati i cherubini si alzarono in volo e presero a volteggiare nell'alto soffitto faremmo immediatamente rotta per 56 Izzar sentenziò Lord Rorken ignorando i versi dei cherubini riferiscimi senza indugio ciò che scoprirai la sicurezza navale aveva imprigionato Girolamo Malahit entro l'ala di sicurezza dell'area medica della nave la ferita che gli avevo procurato era stata curata benché nessuno si fosse preso la briga di fornirgli un ai protesi per l'alto perduto non vedevo l'ora di strapparmi i suoi segreti mi recai nell'infermeria illuminata da una luce gelida per visitare Fishing era ancora in stato di incoscienza anche se un medico mi aveva assicurato che le sue condizioni erano stabili il castigatore giaceva su una branda coperta da una tenda di plastica collegato a un respiratore e a una macchina per la circolazione sanguigna il suo corpo amartoriato era nascosto da una veste profumata e da protesi metalliche lasciata l'infermeria attraversai un corridoio non riscaldato e mostrato il distintivo alle guardie entrai nell'area di sicurezza quando giunci a una seconda postazione di controllo posta all'ingresso delle celle udì giungere dall'interno un suono acuto mi feci largo tra le guardie inginocchiate davanti a me e raggiunsi battenti lubrificati aprite ordinai e subito arrivò un soldato con un anello pieno di chiavi elettroniche sbrigati la porta si spalancò Conrad Molitor e i suoi tre accoliti incappucciati si girarono verso di me furiosi per essere stati interrotti i loro guanti chirurgici erano sporchi di bava rosa dietro di loro Girolamo soliti avevano l'aria di chi era pronto a buttarmi fuori dalla cella ma la punta della mia pistola automatica premuta contro la fronte dell'inquisitore li dissuase sto interrogando il prigioniero cercò di giustificarsi quel prigioniero è mio è sotto la custodia dell'inquisizione fratello Eisnorn lui è mio Molitor i protocolli dell'inquisizione mi danno il diritto di interrogarlo per primo l'inquisitore cercò di allontanarsi da me ma io continuai a tenergli premuta l'arma contro la testa il suo sguardo era fuoribondo per come lo stavo trattando ma si controllò capendo perfettamente che in quel momento l'ultima cosa da fare era provocarmi ero ero preoccupato per la tua salute fratella balbettò cercando di ammansirmi per le ferite che hai sofferto la stanchezza ma Light doveva essere interrogato immediatamente e ho pensato di alleviarti un po' il fardello cominciando cominciando l'hai praticamente ammazzato non credo affatto alle te scuse Molitor se avessi veramente voluto aiutarmi mi avresti chiesto il permesso tu volevi i suoi segreti per te è una menzogna verciò armai la pistola con il pollice e il rumore dello scatto e creggiò minacciosamente per tutta la cella di metallo davvero? allora dimmi che cosa ti ha rivelato ha opposta molto resistenza rispose dopo un attimo di esitazione abbiamo saputo ben poco in quel momento udimmo il rumore di passi pesanti provenienti dall'esterno e giunsero le guardie accompagnate da due chirurgi della flotta vestiti di verde e da quattro attendenti medici per il trollo di terra esclamò uno di loro vedendo il corpo devastato dal prigioniero fate ciò che potete dottore stabilizzatelo i medici si misero immediatamente al lavoro richiedendo strumenti apparati abiti freschi Malait gemette a cora minacciare di morte un inquisitore è un reato penale disse uno degli accoliti incappucciati avvicinandosi lord Rorken sarà profondamente scontento aggiunse un altro mettete via l'arma e il padrone collaborerà concluse il terzo via i tuoi sicofanti di tacere ordinai a monitor per favore inquisitore Esnorn proseguì il terzo accolito la cui voce pareva un sibilo sotto il cappuccio si tratta di un terribile malinteso del quale faremo a Mende mettetevi alla pistola quella voce era troppo sicura di sé inoltre parlava al posto di monitor con straordinaria autorità cosa che solo a Emos o Midas avrebbero fatto per me in un caso simile prendi i tuoi assistenti e battene di qui monitor tornerò a occuparmi di questa faccenda dopo che avrò conferito con Lord Rorken i quattro si allontanarono immediatamente e io riposi l'arma e in quel momento il capo della squadra medica si avvicinò scotendo il capo quest'uomo è morto signore su richiesta di Lord Rorken l'ecrisarche anziano della nave aprontò una cappella a mezzanave credo che tutta la curia presente fosse rimasta impressionata dall'ira del primo inquisitore avevamo avuto poco tempo a disposizione per rimediare i danni provocati dall'incidente tuttavia i medici avevano posto il cadavere martoriato di mala in un campo di stasi Lord Rorken ritorno ritorno un primo tentativo se me l'avesse negato non avrebbe fatto altro che aggravare il risulto di monitor ringraziai Rorken per il compito affidatomi sottolineando che la conoscenza che avevo dell'intero caso faceva di me il candidato migliore ci riunimmo nella cappella una lunga sala con sottili colonne e pavimenti a mosaico le finestre dai vetri istoriati celebravano i trionfi dell'imperatore ed erano retroilluminate dal vortice dell'imperio che circondava la nave mentre le pareti vibravano a caso degli sballottamenti subiti dalla San Shaitus i membri dell'inquisizione gli ecclesiarchi presero posto tra le file di panche e sui seggi loro assegnati tutti i miei fratelli erano in attesa compreso monitor che sapevo non avrebbe rinunciato a partecipare insieme a Lowink attraversare la navata fino al basamento su cui giaceva Malaiti Stasi circa una trentina di astropati e la delegazione inquisitoria si erano assepati dietro di esso incappucciati deformi alcuni trasportati da strutture meccaniche dotate di ruote o da austeri servitori vi svegliavano e mormoravano Lowink fornì loro le istruzioni quasi compiaciuto per quel compito che lo metteva in una posizione di privilegio rispetto ai colleghi di grado maggiore il mio astropata non era in condizione di condurre il ruoto da solo dato che le sue capacità si limitavano alle semplici audizioni psiometriche ma la sua conoscenza delle mie abilità lo rendevano fondamentale per coordinare i loro sforzi guardai Malait che giaceva in uno stato pietuoso dentro l'involucro stranamente mi ricordava lo stesso lì imperatore che ripose in eterno nel gigantesco campo di stasi del trono dorato che l'avrebbe preservato fino alla fine del tempo della morte che Horus aveva cercato di dargli Lowink mi fece un cenno per comunicarmi che il coro estropatico era pronto mi guardai attorno e tra i presenti vedi il volto di Endor che come mi aveva promesso si era seduto vicino a Molitor per controllarlo meglio Shongard sedeva in fondo per sottolineare che si dissociava dall'atto radicale del suo amico vedi il fratello capitano Seinwolf e due dei suoi inquietanti Space Marine che sedevano dietro lo schermo dell'altare con addosso l'armatura completa e impugno il fucile d'assalto Requiem non erano lì per godersi lo spettacolo ma per ragioni di sicurezza fratello puoi procedere disse Lord Rorken dal suo seggio il coro cominciò ad aprire le pieghe del warp con crescente devozione un gelo psionico alleggiò sotto la volta alcuni dei presenti gemettero vuoi per paura vuoi per un involuntario coinvolgimento empatico Commodus Walk si alzò dal seggio accanto al teatro Helden e si avvicinò come concessione al Lord Rorken per avermi conferito un simile onore avevo accettato anche che il vecchio inquisitore prendesse parte all'autoseduta dopo tutto si correvano rischi notevoli e due menti erano meglio di una inoltre ritenevo piuttosto utile avere a disposizione i poteri di quel vecchio serpente abbassate il campo di Stasi ordinai il mormorio degli astropati crebbe mentre lo schermo luminoso scompariva io e Vok toccammo a magne nuda il volto scogliato il velo del warp si aprì ed ebbe l'impressione di trovarmi ai piedi di una colonna di fumo di un bianco spettrale che mi circondava nelle orecchie mi rimbombavano le grida dell'infinito e di miliardi e miliardi di anime intrappolate in quella spira una luce azzurra striata da lingue di fuoco un suono che racchiudeva in sé il rumore del terremoto e i canti eteri dei tempi scomparsi da secoli un odore di legno bruciato incenso acqua salmastra sangue un vuoto cosmico vasto ed eterno mi ottenebrò la mente mentre mi addentravo ma subito scomparve impedendomi così di perdere la sanità mentale un altro bagliore riflessi rossastri galasse che si scontravano tra le fiamme anime simili a comete che solcavano l'immaterium voci di dei mostuosi richiamati da oltre l'inconsistente fondale dello spazio bagliore oscurità oceanica un altro brano di un canto bagliore nidi di stelle piedi di sole in stato embrionale bagliore luce fredda vecchia di eoni bagliore Gregor? mi guardai attorno e vidi comodo sboc non avevo immediatamente riconosciuto la voce sembrava ovattata com'è se quanto accadeva lo avesse mortificato eravamo su un pendio di scisto verde sotto una coppia di soli che emanavano un calore terribile montagne aride simili a fortezze sorgevano all'orizzonte attraversammo la superficie dirigendoci verso il suono della scavatrice un modello monofunzione molto vecchio e dai pistoni ben lubrificati con le pare dentate piantate nella facciata rocciosa dalla caddaia fuoriuscivano nuvole di fumo e di vapore mentre da un nastro trasportatore posto sul retro venivano scaricati detriti che formavano cumuli scintillanti l'altra passammo e superammo anche le altre zone di scavo dove servitori più piccoli ripulivano e lucidavano frammenti dagli strati esposti per poi depositarli con delicatezza su appositi vassoi Malait più giovane che nella realtà quasi un ragazzo era lì a osservarli lavorare abbranzato dalla luce solare dalla fatica indossava un paio di pantaloncini e una larga tuta e aveva la pelle sporca di polvere sapevo che saresti venuto disse vuoi collaborare? gli domandai non ho tempo per parlare asserì chinandosi per osservare gli oggetti che i servitori avevano deposto sul bassoio ho molto da fare c'è tanto da scavare prima che arrivino le piogge tra una settimana sapeva chi fossimo tuttavia non riusciva a distaccarsi dalla realtà che lo circondava c'è tutto il tempo che vogliamo per parlare penso che tu abbia ragione assentì tirandosi su sai che posto è questo? no risposi e per un attimo d'acqua un mondo di confine proseguì adesso che ci penso credo di averne dimenticato il nome sono molto più felice in questo luogo o almeno penso qui è cominciato tutto per me il mio primo grande ritrovamento lo scavo che mi rese degno di essere un archeoxenologo veramente vorremmo parlare degli ultimi avvenimenti intervenne ma la età nuì e sciolse la bandana per detergersi il sudore delle gote però è qui dove tutto è cominciato ripetè sarò celebrato per questi ritrovamenti e verrò accolto tra le personalità più importanti invitato a cena dalla famosa e nobile famiglia Glow per poi entrare al suo servizio come cercatore lo stesso Urisel Glow mi assumerà e mi offrirà un cospicuo stipendio per lavorare per lui dove ti condurrà tutto questo domandai parlaci dei saluti a quelle parole Malait si infuriò e distolse lo sguardo perché voi cosa mi offrite nulla mi avete distrutto Malait abbiamo i nostri sistemi e per te sarà tutto più facile la famiglia Glow ti ha condannato a un destino terribile mi guardò negli occhi con curiosità tu puoi salvarmi anche adesso certamente d'acqua e sollevò uno dei contenitori che all'improvviso si era riempito con le mattonelle ottagonali del sito damascano sapete un tempo avevano un impero proseguì scegliendo qualche pietra e mostrandocela ma quei pezzi non avevano alcun significato la storia è tutta qui pittograficamente realizzata ma i nostri occhi non possono leggerla i saluti invece non sono dotati di funzioni visive o uditive ma gusto e olfatto combinati insieme sono il loro senso principale riescono a individuare il sapore della realtà anche quella dello spazio dimensionale e degli angoli del tempo come? grazie al necroteuco disse in tono indifferente le ha alterati avevano un piccolo impero che comprendeva non più di quarantina di pianeti e quando il libro entrò in loro possesso era già piuttosto vecchio li portarono dagli esseri umani in fuga dalle prime persecuzioni su terra grazie al loro apparato sensoriale riuscirono a ricavarne molto di più di quanto potessero leggere dei semplici occhi umani fin dal primo assaggio la profonda sapienza del libro penetrò nella loro cultura come un incendio un virus patogeno trasformandoli deformandoli e conferendo loro un grande potere ciò condusse a una guerra una guerra civile che ne fece crollare l'impero lasciandoli alle spalle peneti incendiati o abbandonati riducendo il loro territorio a quel lontano frammento che oggi conosciamo sono una specie corrotta? domandò Wook Malait Annui oh non c'è modo di salvarli inquisitore sono proprio il genere di abominio Xenos che ci insegnate a temere e a disprezzare in tutta la mia carriera ho conosciuto molte specie aliene e ho scoperto che la maggior parte di ciò che l'inquisizione e la chiesa sostengono è piuttosto immeritato voi siete dei pazzi che ucciderebbero qualunque cosa solo perché non vi assomiglia eppure in questo caso avete ragione il contagio del necrotelco ha sopraffatto i saluti non ha importanza se sono Xenos il fatto è che sono figli del caos Rabrevidi come se si fosse sollevato un mente gelido ma entrambi i soli erano ancora lì quali sono le loro risorse e la loro potenza militare? non ne ho idea rispose Rabrevidi non ancora hanno abbandonato da secoli la tecnologia delle navi spaziali non ne hanno più bisogno come vi ho già detto il necrotelco ha alterato le loro abilità sensoriali rendendoli capaci di andare oltre gli angoli dello spazio e del tempo e di spostarsi tra le varie dimensioni da un pianeta all'altro sono diventati maestri nella creazione di spazi quadridimensionali ambienti in grado di esistere solo in un momento specifico del tempo come quello in cui doveva avvenire lo scambio? esatto KCX 1288 un tempo faceva parte del loro impero e andò distrutto durante la guerra civile l'hanno scelto per l'incontro perché è lontano dai luoghi in cui vive la loro gente e hanno costruito appositamente per noi il tetraspazio tetraspazio? scusatemi ma quel termine l'ho inventato io perché pensavo che un giorno sarebbe potuto comparire in un libro di testo si tratta di un ambiente a quattro dimensioni caso specifico costruito con un clima adatto agli uomini dopo tutto eravamo loro ospiti come è stato raggiunto l'accordo? Locke il contrabbandiere era al servizio dei glogia da molti anni era un mercenario che viaggiava tra le stelle agli ordini di quella famiglia un giorno si imbatté nel territorio dei saruti e alla fine riuscì a mettersi in contatto con loro un giorno scoprì l'esistenza del nicroteuco e capì che valore poteva avere per i suoi padroni ed essi accettarono di barattarlo stavo diventando impaziente di sicuro era già passato molto tempo fa freddo mi rispose con una scordata di spalle non è così sta facendo sempre più freddo allora malai ti accettarono lo scambio non possiamo aiutarti se ci fai perdere tempo sì accettarono in cambio della restituzione di manfatte e tesori dai mondi che avevano abbandonato e i quali non avevano più accesso ma il nicroteuco non aveva valore per loro era ormai nelle loro anime nelle loro menti inciso nel loro codice genetico il libro in quanto tale era solo un oggetto qualsiasi e tu? sei stato impiegato per recuperare i materiali che i glo volevano barattare certo sapete mi era stato promesso un tale potere la sua voce si spiense oltre le montagne il cielo stava diventando scuro e una forte brezza sollevava frammenti di scisto attorno ai nostri piedi le piogge? mormorò non così presto concentrati malait o ti perderemo il necroteuco è andato distrutto e lo scambio è evitato inoltre la famiglia Glo è stata sconfitta e annientata allora perché Locke e Dazzo stanno conducendo la loro flotta in pieno territorio saruti? che succede? domandò all'improvviso sollevando una mano per imporre il silenzio adesso faceva veramente freddo e i soli venivano oscurati da comodi di nubi in lontananza giungeva il flebile suono ad una triste melodia che stanno facendo? sbottò Vogue mentre Malait ci guardava come fossimo due idioti stanno riparando al danno che avete provocato alla loro causa i grandi e potenti padroni dei Glo hanno in chiesi dei padroni da compiacere padroni la cui ira distrugge il pensiero e adesso devono placarli per aver perduto il necroteuco guardai Vogue intendi dire i figli dell'imperatore è ovvio i Glo non potevano farcela da soli nonostante il loro potere e la loro influenza hanno stretto un patto con quel malvagio capitolo per ottenere aiuto e protezione promettendo in cambio di condividere il necroteuco con loro e ora che è andato distrutto i figli dell'imperatore ne sono piuttosto seccati e come pensano di rimediare a questa seccatura e farsi perdonare domandò Vogue che come me stava preoccupandosi per il colore del cielo e il rumore del vento ottenendo un altro necroteuco risposi intuendo cosa avrebbe detto Malait l'archeoxenologo batte le mani e sorrise con piaciuto finalmente usi il cervello proprio quando non ci speravo più complimenti ce n'è un altro balbettò Vogue i saluti furono felici di scambiare quella copia perché hanno la loro spiegai maledicendomi per non aver capito fin dall'inizio il senso di tutta la faccenda ancora complimenti infatti è così inquisitore Malait era veramente felice e sorridente anche se tremava e desiderava un po' il calore si tratta ovviamente di una trascrizione a xinus scritta in quello che potremmo chiamare loro linguaggio anche se sapore sarebbe il termine più adatto comunque le conoscenze arcane che contiene sono sempre le stesse Dazio e i suoi padroni otterranno il necroteuco nonostante tutti i disastri che avete combinato si furono dei lampi e il vento sollevò un muro di polvere e una tempesta di detriti il nostro tempo è scaduto mi gridò Vogue proprio così concordò Malait e adesso mantenete la vostra promessa io ho risposto sinceramente voi siete uomini di parola Malait non possiamo salvarti dalla morte gli spiegò Vogue l'abominazione che hai scelto di servire ti divorerà l'anima noi possiamo essere caritatevoli ed estinguere il tuo spirito prima che arrivino Malait sogignò e alcuni frammenti di scista andarono a sbattere gli suoi denti che tu sia maledetto Commodus Vogue che siate maledetti tutti sbrigati Vogue gridai Malait ci aveva semplicemente trattenuti raccontandoci la sua storia poco per volta perché sapeva bene che non avevamo altro da offrirgli se non una fine rapida che non lo interessava lui desiderava vendicarsi era quello il premio per le sue parole voleva essere certo che fossimo ancora lì quando sarebbe giunta la fine cosicché morissimo con lui in deserto alle sue spalle ruttò scagliando rocce e polvere dalla tromba del ciclone dal terreno una colonna di sangue esplose come un geyser ampia mezzo chilometro e alto una decina levandosi come un gigantesco albero vorticante colmo di carne putrida nervi muscoli frammenti di tessuto e un milione di occhi che ci fissavano rami simili a tegnini e carne furono scagliati lontano dall'immesso vortice e fecero a pezzi Malait fu il più totale devastante destino a cui abbia mai assistito eppure mentre il suo destino si compiva Malait continuò a sorriderci trionfante